Siamo arrivati alla fine di questo percorso con un'ultima chicca, il fatto che il Parco Nazionale di Portofino è stato spogliato dalla gestione di due aree molto importanti, le aree della Colina delle Grazie di Montallegro, quindi il Parco di Portofino che adesso gestiva queste due aree protette come SIC, adesso non le gestiva più. È una cosa un po' illogica visto che il percorso di allargamento del Parco Nazionale di Portofino vedeva proprio in quelle aree come una possibilità di sviluppo e quindi la regione va con un segnale molto negativo al tavolo con il ministero. In generale si chiude una legge pasticciata in cui c'è un parco regionale in meno, quello di Finalese, mille ettere di aree protette in meno e in generale tanta carta e tanta burocrazia che renderanno più complicata la vita degli enti parco e non avranno degli effetti positivi sulle comunità perché c'è bisogno di una collaborazione forte tra parchi e territori e questa legge non va in quella direzione. Grazie.